Questa è la classifica della settimana. Allora, professor Bennato, professoressa Bragaglia, professor Minuz, tenendo presente anche questa classifica, un vostro commento e anche ovviamente il vostro consueto commento all'offerta settimanale. Professor Bennato, andiamo a Catania. Per quanto mi riguarda, io vorrei partire dall'offerta della settimana perché mi sembra molto ricca e molto variegata. Il film che mi ha incuriosito di più è Un nemico che ti vuole bene perché soprattutto per questo modo che ha di utilizzare alcuni nomi tutelari della commedia italiana, penso a Diego Abbatantono, però in una situazione un po' più oscura, un po' più dark. Quindi questo qua sicuramente mi rende interessante moltissimo la possibilità di vedere questo film e soprattutto anche il plot mi sembra anche piuttosto legato alle tradizioni dei film di genere. Quindi sicuramente è un film che mi incuriosisce e non mancherò di vederlo al cinema. Poi un'altra cosa che mi ha colpito, ma questa cosa mi aveva colpito già quando ne avevo preso in considerazione con i festival cinematografici, è Opera senza autore. Un po' perché mi interessa molto l'atmosfera sociale e per certi versi sociologiche della Germania fondamentalmente dall'origine nazista. E poi perché mi interessa moltissimo il ruolo dell'uso dell'arte anche come modo di rileggere in chiave traslata quelli che sono determinati processi sociali che hanno il loro sviluppo storico. Poi io sono un appassionato del genere, ma avendone letto in giro sono piuttosto pronto alla delusione Venom. Io sono un appassionato, io non sono un marvelliano, non sono un lettore di fumetti Marvel, però Venom l'ho seguito perché mi piace molto il suo essere la Nemesi, per certi versi la Nemesi dell'Uomo Ragno. È sempre stato un personaggio particolare con delle sfumature nei fumetti. Anche io ho letto in giro informandomi su questo film che non manterrà le promesse perché è appassionato di questo tipo di cinematografia, però io cercherò di buttare il cuore al di là dell'ostacolo e soprattutto in memoria della mia vecchia lettura dei fumetti Marvel, soprattutto il personaggio di Venom e Maximum Carnage, sicuramente andrò a vederlo a cinema. Poi devo ringraziare soprattutto la folgorante recensione che è stata fatta qualche minuto fa su The Domestic. Ho deciso di andare a vedere The Domestic fondamentalmente perché ho un debole mio personalissimo nei film sugli zombie, soprattutto sugli zombie e sulla possibilità che il mondo venga capovolto a causa di questa specie di fame di carne umana, che dal mio punto di vista da sociologo era appassionato di questa ipologia di film sia simbolica che sociologica. Poi dal mio punto di vista gli zombie sono veramente l'archetipo delle paure contemporanee, cioè la massa, la folla, informe. E poi per quanto riguarda la classifica, invece mi sembra che da un punto di vista, facendo un po' della sociologia spicciola, mi perdoneranno i colleghi più esperti dell'argomento, però in realtà le prime tre posizioni mi sembrano veramente una bella, diciamo così, trimurti delle tre atmosfere culturali che stiamo vivendo in questi ultimi tempi, perché al primo posto ci sono gli incredibili due, che quindi la voglia di evasione, la voglia di vedere la realtà in maniera chiara e traslata. Al secondo posto c'è Denan, che oltre a essere, che è la paura, quindi il sentimento di paura sicuramente è qualcosa che serpeggia nel mondo contemporaneo per diverse motivazioni, oltre al fatto che Denan fa parte di una specie di franchise, perché ormai della serie, se non sbaglio, credo che sia il terzo film. E poi sicuramente c'è The Black Clansman, c'è il Spike Lee, quindi la possibilità di effettuare una rivalza nei confronti dei temi legati al razzismo e alla lotta del razzismo, che è anche uno dei temi che emerge nel tessuto sociale contemporaneo. Quindi dal mio punto di vista la classifica con queste prime tre posizioni esprime in filigrana quelli che sono il sentire comune della nostra società contemporanea.